C'è qualcosa che ti stai puttando a prendere, devi dare un po' di motore, solo uno è partito ragazzi, dai un attimo dai un attimo, ti ricordi ieri Beppe, no 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 parte parte, stacca la batteria di nuovo e li attacca, no 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 l'ha fatto pure ieri, devi dare, vuol dire che ha letto il trim accelerato, metti il trim. Ok, provo di direzzi Se si stacca in volo c'è qualcuno Dinamicamente schiacci Eh si Beh, vai di centro Sigi Picchiatissimo Oh, fai un grido all'elio, devi fare attenzione Eh Eh, Enzo, sei stata pinta Ah Musica Musica Picchia picchia Musica Cosa Che cosa beppe Che cosa beppe A terra Che è successo Eh Oh bello Che c'è beppe Ah Forse quello che parte prima Oh bello 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 Oh bello